Sono 161 le imprese marchigiane che parteciperanno da domenica 16 a mercoledì 19 febbraio alla Fiera di Milano al Micam, in un momento particolarmente difficile per tutto il comparto in cui la Camera di Commercio Unica regionale con il Presidente Sabatini cercherà di sostenere con delle iniziative mirate. La Camera di Commercio delle Marche è la strategia che può mettere in campo e facilitare il mondo della calzatura a collegarsi con le istituzioni primarie come la Regione e il Governo. Ecco perché il 18 di febbraio a Milano, nello stand di Confindustria Centro Adriatico, abbiamo realizzato questo incontro con il sottosegretario al Mese, l'Onorevole Alessia Morani, con lei ci sarà anche la Regione Marche con Ciacinti, il Badon Presidente Calzalturieri nazionale, ci sarò io, gli imprenditori di tutte le associazioni di categoria per trovare quelle economie, per trovare quelle normative di legge, per trovare quei canali che possono oggi più che mai sostenere il mondo dell'impresa, della calzatura nel momento in cui la Cina ha un problema sanitario importante che tutto il mondo ne sta parlando, sembrerebbe questa voce degli imprenditori della calzatura che la calzatura cinese dovrebbe avere un rallentamento in questi sei mesi, in questi sei mesi ci vuole un forte shock economico e di normative verso la valorizzazione del sistema produttivo della calzatura, zone economiche speciali, fondi per abbassare il costo del lavoro o agevolare l'imprenditore a utilizzare altre forme di lavoro che possano aumentare la produzione e la qualità della produzione, ritornare magari su delle normative di innovazione e ricerca dove la piccola e micro impresa deve essere l'attore principale perché oggi non dimentichiamo che le scarpe di altissima qualità vengono anche prodotte dalla piccola e micro impresa e abbiamo un tessuto imprenditoriale che su alcuni comuni arriva quasi al 50% proprio di questo distretto, di questo settore e se questi vanno tutti quanti in difficoltà anche su questo mica ma anche in questi sei mesi dove la Cina dovrebbe rallentare la produzione sicuramente avremo anche una mancanza di coesione sociale perciò oggi l'imprenditore vuole le istituzioni al fianco, noi dobbiamo essere al fianco degli imprenditori e gli imprenditori non possono più essere presi in giro perché oggi più che mai l'imprenditore è la salvaguardia veramente di un'economia marchigiana che deve ritornare a splendere come una volta. Un momento di crisi fortissimo per il settore calzaturiero, forse il peggiore degli ultimi anni seppur di crisi essi stessi e il tavolo in provincia di Fermo ha cercato di reperire fondi per dare un primo sostegno al settore, ma non saranno soltanto questi aiuti economici a riportare in auge una delle attività produttive più importanti per il fermano maceratese. Molto importanti perché con il tavolo dello sviluppo e della competitività insieme quindi a tutte le associazioni di categoria e sindacali e insieme alla regione Marche abbiamo ottenuto un risultato importante e cioè quello di portare su questo territorio delle notevoli risorse, parliamo di 30 milioni di euro, proprio rivolte alle aziende e alle politiche attive del lavoro. Sono delle risorse importanti che possono dare una boccata di ossigeno alle tante aziende in difficoltà e che possono anche portare investimenti in nuovi settori perché ricordo sempre che queste risorse e quindi i vari bandi che usciranno a seguito della sottoscrizione del PRI che avverrà nei prossimi giorni potranno accedere non solo le aziende del distretto calzaturiero fermano maceratese ma anche aziende che pensano di investire in altri settori produttivi e non solo. Per cui è importante che le nostre aziende abbiano una boccata di ossigeno come quella che queste risorse possono dare e quindi avere quella spinta necessaria per poter ripartire. chiaramente, lo sottolineo, questo risultato che seppure rappresenta un risultato importante non è il punto di arrivo del lavoro del tavolo di sviluppo ma che anzi è una nuova partenza per poter raggiungere altri obiettivi e riportare le nostre aziende altri strumenti perché è chiaro ed evidente che una crisi difficile e complessa come quella che stiamo vivendo non si supera soltanto con un'iniezione di risorse economiche ma con una serie di strumenti che possiamo mettere a disposizione delle aziende che quindi possa dare una completezza di azioni e che possa permettere quindi alle aziende di superare questo momento di difficoltà e quindi ridare al nostro territorio una serenità e uno sviluppo e un senso di crescita che purtroppo in questi ultimi tempi è stato perso, comunque colpito dalla crisi che tutti quanti noi viviamo. Grazie a tutti! Grazie!